Cavese Andria è stata l'ultima partita della stagione che gli Ultras hanno potuto seguire Arsemanetta Lamberti. Il giudice sportivo è stato intransigente dopo i fatti verificatisi in campo e contro il grottaglie la formazione di Agovino dovrà giocare sul terreno neutro e a porte chiuse. Intanto i tifosi metelliani che si aspettavano ampiamente i provvedimenti di tale portata si sono praticamente rassegnati al destino del club, ma quel che non passa inosservata è la reazione nei confronti dei responsabili del gesto che ha scatenato l'ultima fatidica grana per il club. La cava sportiva infatti non parla d'altro, condannato sia il gesto estremo che le altre esuberanze di domenica. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, si direbbe in questi casi, considerato che i supporter smetelliani non sono certo nuovi a provvedimenti del genere, eppure dagli errori passati non sembra sia stato appreso nulla. Intanto, mentre continuano attivamente le operazioni di indagine degli agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Marzia Morricone per individuare i responsabili del lancio del petardo, nelle ultime ore sono stati analizzati e filmati, la formazione di Agovino è tornata ad allenarsi in vista dell'ultimo impegno esterno contro il Potenza. Altra sfida difficile, certo, ma il cui risultato poco può giovare ai Biancoblu, che ormai non hanno più speranze di concorrere per i play-off, sebbene la matematica non li abbia definitivamente condannati. Ma crederci, ancora è un'utopia. Al Biscegli e al Brindisi basterà fare un solo punto nelle ultime due gare per spazzare definitivamente via la Cavese.